Consegniamo oggi la flotta completa per la Multiservizi Società Municipalizzata del Comune di Bari dedicata alla manutenzione del verde pubblico e alla manutenzione dei giardini e delle spiagge. Con questi veicoli abbiamo adottato la Multiservizi di mezzi altamente ecologici perché per quanto riguarda i cadi sono tutti a metano, quindi motorizzati con un carburante a bassissimo impiatto ambientale. Per quanto riguarda invece i transporti sono veicoli dotati di un'attrezzatura specifica con incassioni ribaltabili trilaterali che consentono loro di utilizzare tutta una serie di attrezzature specifiche per la manutenzione come ad esempio i mini trattori da giardino. Con questo tipo di veicoli finalmente siamo riusciti a dare una svolta a quello che era la gestione dei consumi e dei costi che la società Multiservizi nell'arco dei tempi aveva avuto modo di verificare e infatti una fornitura fatta totalmente a noleggio lungo termine attraverso la nostra azienda.